Musica Incontro Angela Foti e Iose Marano, entrambe candidate alle prossime regionali, onorevole Foti, la prima cosa da fare per questa Sicilia martoriata. La prima cosa da fare è cercare la normalizzazione della Sicilia, in Sicilia tutto è normale, spesso fuori legge c'è una stratificazione burocratica, una confusione nelle amministrazioni tremenda e poi ricostruire un sano rapporto con lo Stato che oggi è una matrigna cattiva, un patrigno cattivo che toglie alla Sicilia quello che gli spetta. E anche fuori dal Parlamento ci sarà un'intensa attività per restituire ai siciliani dignità e autonomia. Io sembra che non sarà possibile, diciamo uno scenario possibile che magari i cancellieri riesci a diventare il Presidente, il Governatore di questa regione, ma forse all'Ars avete qualche difficoltà ad avere una maggioranza, è possibile uno scenario di questo tipo? Stiamo giocando e lottando per avere un buon risultato il 6 novembre, i risultati li sapremo il 6 novembre, lavoreremo in base a quello che abbiamo scritto sul programma e porteremo avanti i progetti che stiamo portando avanti da programma per gli obiettivi della Sicilia. Eventualmente è riuscita ad ottenere il Presidente ma non riuscirete ad ottenere una maggioranza significativa in Aula. Farete degli accordi oppure ce ne andiamo a votare di nuovo? Posso dire con certezza che in questi cinque anni, pur non avendo avuto la maggioranza, siamo riusciti gli unici a portare in Aula leggi serie. Non parliamo dei mutui e delle riforme alle province finite più con delle sentenze e delle impugnative, ma leggi serie, qual è il testo unico dell'edilizia, la legge sull'albergo diffuso e norme chiare a difesa dei cittadini. Lo stesso faremo chiamando alla responsabilità gli altri candidati, qualora non dovessimo avere la maggioranza. Sui programmi compareremo quello che c'è scritto nel nostro programma con i programmi degli altri e saremo ben lieti di dargli la paternità delle varie norme. Tra l'altro, più che produrre leggi, lo diciamo spesso, bisogna applicare leggi e quindi molto del lavoro sarà fatto dal Governo, appunto, dall'aggiunta degli assessori. Professionisti di conclamata esperienza, l'assessore all'autonomia che è un sindaco defenestrato del PD, Angelo Cambiano, la dottoressa Argentati per l'agricoltura, conosciuta specialmente nel Catanese per la sua ampia capacità di sedere ai tavoli della cooperazione, per la filiera, per gli agrumi e comunque per una Sicilia che produce in maniera sostenibile nel rispetto dei lavoratori. L'ultima per Iosmarano. Sapete che le condizioni del bilancio sono difficili per la Regione Sicilia e non basterà tagliare gli omolumenti agli onorevoli. Bisogna fare qualcos'altro. Sì, una volta arrivati in Regione chiaramente si vedrà quali sono le problematiche a livello di bilancio, si cercherà chiaramente di spostare i soldi nei giusti canali piuttosto che utilizzarli per cose, diciamo, inutili. Sì, una volta arrivati in Regione Sicilia.